Si stanno studiando le formule che garantiscono ovviamente una sicurezza, perché negli studi televisivi più si è e più il rischio sale. Allora è chiaro che se riusciremo, come io spero, al più breve a rientrodurre il pubblico, dovrà essere un pubblico tamponato, perché altrimenti i continui tamponi ai conduttori verrebbero poi buttati al vento con l'introduzione di persone che non sono controllate. Dal 2 al 6 marzo è in Palinsesto Sanremo, adotteremo tutti gli stratagemmi perché anche il pubblico torni vivo all'Ariston, come già per gli intrattenimenti saranno seguite tutte le norme che un organismo, anche pubblico come la RAI, deve seguire e quindi ci sarà perché non c'è anno televisivo senza Sanremo.